Gennaro Salerno Gennaro Salerno è di Napoli ma vive a Londra dove lavora come PR? Famoso per la sua storia con Antonella Mosetti oggi sta con la modella Megs Colimani. Gennaro Salerno ha origini napoletane ma vive a Londra.È molto tifoso del Napoli, e appena riesce torna in Italia per andare a trovare la famiglia alla quale è molto legato. Chi è Gennaro Salerno? Gennaro Salerno è un ragazzo di origini campani, è napoletano di nascita, ma da tempo vive a Londra. Qui fa il PR in un importante locale. Appena può però rientra in Italia per passare qualche giorno insieme alla madre, definita da lui come la donna più importante della sua vita. È dunque molto legato alla famiglia. Novi è noto alle cronache rosa italiane, se non per la sua storia d'amore con Antonella Mosetti finita lo scorso anno. Di lui non sappiamo molto, sicuramente ama la bella vita e fare feste? Nelle foto che condivide sul suo profilo Instagram lo si vede sempre in luoghi di mare o località di vacanze e di lusso. Attualmente è fidanzato con la modella Meg Skoliman presente in molte delle sue foto condivise. La storia con Antonella Mosetti, Gennaro Salerno è conosciuto più che altro per essere stato fidanzato con Antonella Mosetti, Ciovigirli e concorrente del grande fratello Vitt dello scorso anno. La donna, dopo la lunga relazione avuta con Aldo Montano, e altre storie finite male ha avuto una storia con Gennaro durata circa otto mesi. La loro storia è iniziata nell'estate del 2016 quando entrambi erano in vacanza in Sardegna, e si è conclusa all'inizio dell'estate scorsa. I motivi della rottura, sembrano essere stati la lontananza, lei ha a Roma lui al Londra, e la differenza d'età, Gennaro è più giovane di dieci anni. La Mosetti, durante la loro frequentazione aveva partecipato a grande fratello Vitt insieme alla figlia Asia Nucetelli, avuta dalle ex compagno. Nella casa la Ciovigirli aveva spesso parlato di lui arrivando a scriversi sulla fronte con il rossetto le sue iniziali, G. R. Proprio dalle iniziali si era risaliti all'identità di Gennaro Salerno rimasto fino a quel momento al riparo dal gossip. R. A febbraio scorso Antonella Mosetti aveva rivelato a Domenica 5 di aver perso un figlio da Gennaro Salerno solo un anno. R. Questo era per lei il secondo aborto, il primo era accaduto, quando era ancora fidanzata con Aldo Montano, come aveva dichiarato nel 2013. R. Il mio agente mi consigliò di non dire la verità. Disse che ero in ospedale, perché dovevo operare una cisti ovarica. R. Con Gennaro poi finì. Entrai in depressione, mi salvarono le mie amiche ed Asia. a a a a a a a a a .